eccomi 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 buonasera amici amiche rosso neri e vai ragazzuoli e ragazzuole belle come state bei paciarotti facciamoci questo ultimo ponte il ponte del primo maggio la festa dei lavoratori vi mando un abbraccio a tutti già in anticipo ragazzi vi voglio ricordare che noi ci vediamo domani il prevedo reaction dopo la partita del nostro milan contro la roma roma che praticamente prevedibilmente la partita finirà qualche minuto prima delle ore 20 il mio video sarà caricato entro le ore 20 30 massimo se qualcosa dovesse andare male entro le ore 21 vi mando un abbraccio a tutti vi auguro buona serata lo ripeto di questo venerdì 28 aprile 2023 ore 19 24 le notizie sono belle belle fresche ragazzi l'avete letto nel titolo ha detto anche mister pioli il nostro mister pioli in conferenza stampa questa partita di domani vale doppio detto pioli io aggiungo è fondamentale come te letto nel titolo per la nostra stagione in questo campionato 2022 2023 che ve lo dico sinceramente non vedo l'ora di lasciarmelo alle spalle perché lo sapete tutti dai ragazzi è inutile negarlo adesso io bisogna parlare delle cose più positive però diciamo non è stato proprio un'annata da campioni d'italia la squadra non è stata risforzata a dovere la proprietà non ha tirato fuori i soldi adesso vedremo quest'estate cosa combinerà perché questi lo ripeto non devono rimanere al milan solo per succhiare le energie ma devono anche investire perché se no giari cardinale ha capito veramente male io quello che ho detto lo prometto l'ho promesso scusate lo prometto che praticamente sarei il primo a fare tra virgolette ovviamente con tutti i termini una guerra se questo se questo discorso del calcio mercato estivo non dovesse essere sviluppato perché tanti dicono perché il milano non è stato rinforzato di qua di su di giù di sinistra penso che le parole del nostro presidente scarone ieri abbiano chiarito tutto questi puntavano al break even cioè il pareggio di bilancio entro la fine del 2023 che viene realizzato morale della favola adesso io non li sto giustificando però così purtroppo è andato i campioni prima volta forse no prima volta no che i campioni d'italia non si rinforzano proprio perché la proprietà vuole questo famoso pareggio di bilancio sarà un risultato clamoroso al 31 dicembre 2023 perché ragazzi in serie a sono tutti concetti ma dai parliamoci chiaro adesso il napoli ha un attivo di bilancio giusto per ma anche il napoli ha le sue difficoltà ma noi praticamente raggiungere per noi una squadra un club come il mila con i costi calminan raggiungere un pareggio di bilancio per poi dopo vedere un futuro glorioso di alto sostentamento ragazzi è un qualcosa di in italia praticamente questa cosa non si vede lo ripeto c'è solo il napoli che c'è i conti buoni e basta ma il napoli anche lui le sue difficoltà non ha il fatturato non ha i costi calminan adesso bisogna vedere un attimino anche loro cosa dovranno affrontare perché osimè vorrà di più gli altri giocatori vorranno di più di stipendio dovrà alzare il tetto in gaggi insomma cambiano tante cose gestire una squadra di calcio io a volte lo dico simpaticamente non mi permetto di fare un mio appunto verso chi è imprenditore in generale però avere un'impresa è una grossa difficoltà avere un'impresa vuol dire affrontare tanti problemi ogni giorno ma avere una squadra di calcio ragazzi e avere un'impresa più avere a che fare con tante persone con tante teste insomma non è semplice però insomma io spero che quest'estate insomma le cose vengano fatte bene però adesso pensiamo a entrare tra i primi quattro per la champions league anche perché c'è il fattore se una squadra italiana vince la champions league se una squadra italiana vince l'europa league se una squadra italiana vince la conference praticamente la quarta rimarrà fuori insomma c'è anche sto casino sapete tutti adesso il napoli si sta preparando per festa scudetto come se danno già per scontato che l'inter vincerà contro la lazio adesso questi patteggiano tutti per allora prima simpatizzavano i giornalisti tutti per il napoli adesso tutti per l'inter non ho capito il perché sinceramente questa cosa mi fa veramente ridere ma ormai la sapete il mio pensiero sul giornalismo che è una cosa lasciamo perdere comunque parole di scuse da michele crescitiello namazza non si sono ancora lette ma lo sapevo già vedendo lui che persona è una persona è bella bella pimpante piuttosto che sicuro di sé a quanto pare pensa che poi ci ha definiti tutti dei ragazzetti ci ha definiti va bene lasciamo perdere questo discorso qua che è meglio allora vi dico subito che i bookmakers quelli che tengono in mano le scommesse bet e tutto il resto danno già praticamente i campioni d'italia attuali a 2 75 contro la roma e quelli della roma 280 contro il milan e fissato a tre volte la posta per il pareggio perché c'è da dire una cosa in effetti che la roma in questo 2023 ha mantenuto la porta dell'olimpico in battuta sette volte su otto questo va detto non bisogna sottovalutare l'avversario anche se le sue assenze ma di balacè io sono fiducioso girù ci sarà io sono totalmente fiducioso nel confronto della nostra squadra perché gli obiettivi importanti la nostra squadra li ha sempre mantenuti li ha sempre mandati fino in fondo e ragazzi voglio veramente anche ah beh poi adesso per la champions league la sapete l'ultima allora il manchester city ha già vinto la champions league guardiola vuole fare il triplete praticamente premier league fa cup e anche la champions league insomma questi danno tutto sempre per scontato i giornalisti ma quando è tanto andare avanti così poi c'è un altro inghippo che vi devo dare riguarda il tolosa c'è un'altra i nostri cugini perché redwood è proprietario del tolosa allora il tolosa in finale di coppa di francia ve lo spiego in breve se dovessero vincere la finale coppa di francia praticamente il tolosa entrerebbe praticamente nelle nella coppa europea adesso non mi ricordo esattamente bene se in europa league sì penso in europa league penso in europa league entrerebbe diritto in europa league adesso forse dico in esattezza ma correggerò meglio il tiro comunque il fatto che il tolosa potrebbe vincere la coppa di francia perché in finale coppa di francia farebbe entrare la squadra del tolosa nelle competizioni europee della uefa ecco adesso rimango un po più generico perché non mi ricordo se europa league o conference league una roba del genere e praticamente succede che se il milan il milan che si gioca praticamente il quarto posto oppure tra virgolette potrebbe adesso diciamolo così in questo esatto momento giocarsi la finale vincere la finale sbatterebbe fuori dall'europa praticamente il tolosa però c'è una piccolo cavillo nella norma che può essere aggirato ce l'ha insegnato la red bull con il lipsia di salisburgo nella stagione 2017 2018 hanno aggirato la norma e praticamente tutti possono rimanere felici nell'europa nelle competizioni europee della uefa e la notizia più una delle più importante poi vi saluto della giornata è questa ragazzi questa è una notizia che mi ha fatto veramente piacere la gcom l'agenzia che regolamenta praticamente le mettete televisive e quant'altro praticamente ha deciso che essendo la semifinale di andata ma anche quella di ritorno un avvenimento scusate voglio ripetere le parole esatte perché non me ne sono segnate un avvenimento di rilevanza ecco per di rilevanza sociale ha segnato praticamente ha deciso che la semifinale di andata la semifinale di ritorno saranno in chiaro e la partita del mercoledì sono sempre in mano ad amazon prime video e ha dato la possibilità a prime video cioè ad amazon di scegliere qual è l'emittente su cui appoggiarsi per far vedere la partita in chiaro e praticamente amazon udite udite ha scelto tv8 di sky per cui su tv8 il 10 maggio alle ore 21 si potrà vedere la partita di andata milan inter per far vedere a tutta l'italia questo bellissimo evento che sarà sono convinto che il nostro milan farà veramente bene anche se qui tutti danno già per scontato l'inter di quasi su di giù lo ripeto fedelfino la noia questi ormai mi fanno solo ridere però sono contento perché vedere in chiaro una partita così importante è fondamentale per la gente non tutti hanno l'abbonamento vogliono possono pagare l'abbonamento a sky oppure vogliono possono pagare l'abbonamento ad amazon ragazzi è uno spettacolo adesso hanno anche definito la gcom ha definito anche che le semifinali e finali di europa league dovranno essere in chiaro e quant'altro insomma adesso poi dopo vedremo un attimino come andrà a finire per il discorso del ritorno adesso non mi ricordo male il ritorno che in mano a sky io parlo della champions league del nostro ritorno di semifinale che in mano a sky dovrebbe essere visto in chiaro su mediaset questa è una cosa che non ho ancora ben capito ma per l'andata su tv8 il canale tv8 ragazzi forza mina sempre comunque ovunque noi ci vediamo domani lo già lo ripeto ancora entro l'ore 20 30 massimo entro l'ore 21 per il mio video reaction ragazzi non vedo l'ora di vedere questa benedetta partita contro a roma perché ci tengo parecchio dai l'avete capito anche voi la tensione c'è ma sono letteralmente fiducioso perché i ragazzi gli appuntamenti importanti non li mancano sono convinto che faranno bene perché è importante ragazzi è importante è un passaggio quello di domani è un passaggio abbastanza abbastanza importante non definitivo ma si vale vale molto mando un abbraccio ciao